Entra in funzione, in viale della liberazione, nei pressi della stazione Bagnoli e Agnano della linea 2 della metro, il nuovo parcheggio realizzato per ospitare fino a 330 auto ed oltre 100 moto. Circa 7 milioni di euro il costo complessivo dell'intervento finanziato dal Comune, che apre un nodo di interscambio integrato tra veicoli privati, autobus e metropolitana, intercettando i flussi provenienti dalla zona occidentale e diretti al centro della città. Un vero parcheggio interscambio per quello che ci siamo detti, perché abbiamo sotto le macchine, su questo piazzale abbiamo gli autobus per l'intervento e abbiamo l'ingresso diretto con le ferrovie dello Stato, linea 2 delle ferrovie dello Stato. Il parcheggio totalmente interrato si sviluppa per circa 10 mila metri quadri distribuiti su tre livelli ed è accessibile da viale della liberazione vicino all'ex comando Nato e collegato direttamente con la stazione metropolitana della linea 2. Circa mille metri quadri del livello di copertura della struttura sono destinati allo stazionamento dei bus ANM che servono la Municipalità Bagnoli Fuori Grotta. Questo parcheggio di interscambio che mette insieme linea 2, ANM, il territorio, le scuole, l'ex areanato, quindi diventa uno snodo strategico per la città, ma direi per la città metropolitana. Importantissimo, c'è un grande lavoro alle spalle per il territorio e per collegarlo sempre di più con il resto di città e si unisce con il lavoro che stiamo completando anche in queste ore sull'altro parcheggio a San Giovanni dove questa amministrazione qualche tempo fa ha contribuito efficacemente insieme alle ferrovie per portare a linea 2 a San Giovanni, quindi area occidentale e area orientale maggiormente unite. Da oggi e fino a lunedì prossimo per pubblicizzare l'entrata in esercizio del parcheggio si potrà sostare gratuitamente. Saranno poi definite le tariffe agevolate degli abbonamenti per la sosta di interscambio e per i residenti nell'area. Abbiamo intenzione con l'amministrazione comunale di proporre una tariffa di 1 euro per 4 ore e 2 euro intera giornata. Ancora di più di avere delle tariffe integrate con Trinitalia a cui ora chiederemo di fare un accordo commerciale in maniera tale che ci sia una tariffa agevolata per quando utilizzano linea 2. Mentre per quanto riguarda invece il nostro sistema e il nostro interscambio con i bus lo vedremo internamente perché avendo la fortuna di gestire contemporaneamente tutto il sistema di trasporto urbano faremo noi una proposta. Tariffe estremamente agevolate, noi vorremmo che il parcheggio sia sempre pieno.